Senti speciali, benvenuti a questa finalissima del Mula Quiz Unite uno dei tanti eventi di Mula che cercano di rallegrarvi le giornate durante questa quarantena di merda ma passiamo un po' a nominare i finalisti abbiamo la competitiva Federica Davide Medio Madiotto il dominatore di Lupi Cecoslovacchi Ernesto il dominatore di Donne Slave il piccolo uomo delle grandi pianure Polo Mottarelli ma dov'è che non lo vedo? Gava e Brambilla che finito di giocare faranno l'amore abbiamo Jacopo Ferrario il grafico che ha già tutte le risposte segnate su quei fogli abbiamo la coppia Barezzina nella nuova casetta con le nuove galline Chiara e Francesco il papà Castoro della Mura Daniele Brusamolino il sopravvizzuto a tutti i venti Mula Luca Bollati l'attrice con lei che mette in scena tutte le sue doti e la mette anche in scena ogni tanto Silvia Cresti ciao Simona abbiamo un'altra coppia di cui si vede solo un uomo il gerba detta la polvere rossa di Galviate e Anna Rosa Carbonelli abbiamo il quale se lo chiamerete nessun ladro entrerà in casa vostra neanche gli albanesi Davide Rizzi abbiamo la strana coppia Mary e Andrea grazie grazie